Eccola qua, eccola qua. Questa è la bolletta di Salvini. E uno dice, ma che me frega a me della bolletta di Salvini. Beh, però 47 euretti. Io voglio andare al governo perché non è possibile che arrivi questa bolletta di 47 euro, consumo per l'elettricità. Guardi quanto ho consumato. Ma vabbè. Zero. Ora, il problema delle tasse. Voi la leggete la bolletta della luce del gas che vi arriva? Ecco, non è normale che, avendo consumato, perché non ci sono stato in quei due mesi, zero kilowatt, mi arriva la bolletta di 47 euro. E poi vai a leggere, ma scusi, io non ho manco schiacciato l'interruttore, da dove arrivano questi 47? E uno va a leggere, spese per la materia e energia, 7 euro. E non l'ho consumata l'energia, però. Spese per il trasporto e la gestione del contatore, 14 euro. Non ho toccato l'interruttore. Spese per oneri di sistema, 21 euro. E quello è il vero tema. Ora, ridurre le tasse vuol dire che se tu non consumi neanche un kilowatt, non puoi pagare 47 euro di bolletta. E questo non è normale. Non è... Perché sono tutte tasse. Beh, quindi lì ci sono 17 miliardi di fotovoltaico. 17 miliardi all'anno di fotovoltaico per rendere più... Perfetto. Ma nel programma di un governo che si occupa di... Non lo faccia vedere, se no vengono tutti a casa. ...di vita reale. E questo fa parte del programma di governo. Non lo faccia vedere, non lo faccia vedere, non lo faccia vedere.